Dicono che sono esagerata perché mi piace avere di più, del resto perché accontentarsi di poco quando si può avere tanto di più. Dite che sono esagerata, io voglio il 120%. Infatti ho scelto Mutuo Tutto Trasgressivo di Veneto Banca che finanzia la mia casa fino al 120%. Mutuo Tutto Trasgressivo Veneto Banca realizza il sogno che hai da sempre. Da quando ho incontrato Riccardo, la mia vita è cambiata. Non devo rinunciare più a nulla. Riccardo è il mio consulente in Veneto Banca. Con l'assicurazione auto che mi ha consigliato, ho risparmiato davvero tanto. Con Veneto Banca posso realizzare tutti i miei desideri. Veneto Banca, ti cambia la vita. Grazie a tutti.